Il secondo pezzo sarà West Harding in purple Penso siamo un pochettino riusciti da tutti E' bello! E' bellissimo, speciale! E' bellissimo, speciale! Si non, pure bene e voglio Non c'è l'unione senza rispetto E' bellissimo, speciale! Compete i videoimmune E' bellissimo, speciale! E' bellissimo, speciale! L'unione sarà una orientazione Sì Grazie a tutti 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 Grazie a tutti